Musica Benvenuti a questa nuova edizione in diretta per TR24 Sport Partiamo con il calcio perché c'è una notizia un'ultima ora che riguarda il Rimini C'è stato infatti un cambio alla guida del club bianco-rosso come testimoniato su TR24.it con l'esonero del tecnico Renato Cioffi sostituito da Giovanni Colella così come è ufficiale anche l'allontanamento del DS Rino Danielli a sua volta rimpiazzato da Ivano Pastore In quest'ultimo caso si tratta di un ritorno visto che l'ex osservatore del Milan aveva già ricoperto questo ruolo sotto la presidenza di Fabrizio De Meis Colella invece ha vinto il ballottaggio con Roberto Cevoli e debutterà la guida del Rimini nella complicata trasferta di Padova in programma domenica prossima Continuiamo però ad occuparci del campionato di Serie C perché intanto cresce la fiducia in casa Cesena dopo la vittoria di Gubbio Oltre al ritorno in campo di Russini condito con il gol dello 0-2 ha superato a pieni voti l'esordio dal primo minuto il difensore Brunetti Sentiamo Finalmente in tutti i sensi sia per quel che riguarda il rientro sia per quel che riguarda la vittoria che mancava e anche per il gol a questo punto Sì sono contento perché comunque sono rientrato in campo dopo tanto tempo poi soprattutto perché siamo tornati alla vittoria dopo un periodo che comunque giocavamo bene ma i risultati non arrivavano insomma quindi siamo stati premiati anche per tutto quello che abbia fatto nelle altre partite insomma Come stai e cosa può significare questa vittoria? Io sto bene come ho detto prima soprattutto perché sono stato male sono rientrato, mi sono rifatto male quindi la cosa principale era rientrare in campo poi il fatto che abbia segnato è una cosa ancora a mio favore cioè mi dà ancora più stimoli Due soddisfazioni, la vittoria e anche aver chiuso senza gol al passivo peccato solo l'infortunio Migliore debutto? Non potevo chiedere mi dispiace per non aver finito tutta la partita però i ragazzi sono stati bravi a non subir golle e a chiudere la partita verso la fine Primo tempo c'erano davanti giocatori sbaffo tanta B, Gomez addirittura un po' di Serie A poi è arrivato Manconi insomma davanti il Gubbio poteva fare paura l'avete affrontato tra l'altro con una linea molto giovane tu alla fine eri il veterano se vogliamo Sì sì esatto anche se per me era la mia prima partita però gli altri anche se erano giovani bene o male questa categoria l'hanno già fatta Sì sono giocatori di alto livello però ce l'hanno scavati bene Il Ravenna invece proverà a ripartire dall'ottimo primo tempo disputato in casa del Vicenza Per mister Foschi la sconfitta contro la capoclassifica è frutto soprattutto di alcuni episodi negativi che hanno girato male per i giallorossi Sentiamo Delle sconfitte accumulate in quest'ultima fase del campionato forse è proprio quella di Vicenza dare maggiore fastidio a Luciano Foschi Il Ravenna visto all'opera allo Stadio Menti non avrebbe meritato di uscire battuto contro la capolista anche se alla fine ha dovuto inchinarsi per effetto della rete messa a segno da Cappelletti Abbiamo concesso possesso abbiamo concesso sicuramente possesso però occasioni da gol la più clamorosa l'abbiamo avuta noi in primo tempo da mezzo metro dalla porta a porta vuoto non siamo riusciti a fare gol credo che alla fine poi abbiamo concesso dei cross ma il mio portiere grandi parate non ne ha fatte è vero ha fatto una buona mole di gioco ma sapevamo che era così non potevamo venire qui a Vicenza e dettare legge e ripartire in contropiede Dopo il gol del Vicenza i giallorossi non sono più riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Albertazzi purtroppo abbiamo dovuto fare due cambi per infortunio e questo ci ha un po' condizionato anche nel fare il terzo cambio non avevamo più soste dopo e quindi per far entrare un'altra punta siamo stati fortemente condizionati da questo diciamo che nel secondo tempo non siamo più riusciti a ripartire e poi comunque abbiamo concesso un tiro cioè mi mischie però vuol dire non siamo non mi sembravamo cioè non siamo stati una squadra che è stata lì allo sbaraglio assolutamente in attesa di scendere in campo in Euro Cup la Virtus continua a guardare tutti dall'alto in basso nel campionato di Serie A di basket la squadra di Giorgiovic ha saputo risollevarsi anche a Trieste dopo un primo tempo costellato di grandi difficoltà vediamo ci è andata vicina a un passo così dalla prima sconfitta in campionato ma la Virtus non sa e non vuole perdere aggrappata alla classe di Milo Steodosic l'uomo dei mille ultimi palloni prima ha trascinato l'avversario ai supplementari riprendendo Trieste e partita per i capelli poi l'ha mandato all'inferno col suo diavolo serbo 9 decisivi punti all'overtime per la nona vittoria l'imbattibilità mantenuta e la perenne fuga in classifica prima della giornata di riposo che dopo il match di mercoledì ad Andorra darà modo di lavorare sulla brillantezza eguagliando così la seconda miglior striscia iniziale di sempre 2001-2002 e mettendo nel mirino i 13 successi del 97-98 per dire che ci si diverte e ci si emoziona anche così subendo Trieste le triple di Cavaliero ed Elmore per i primi due quarti scivolando a meno 13 all'intervallo e concedendo una proiezione di quasi 100 punti al secondo peggiore attacco del campionato poi le urla di Djordjevic sortiscono l'effetto cambio di ritmo difensivo i padroni di casa che per i primi 7 minuti del terzo quarto segnano solamente due liberi e prima incassano il 13-0 con cui la Segafredo pareggia immediatamente sbloccata in attacco da Gaines che spende minuti di grande sacrificio difensivo così come Quono decisiva la sua applicazione nell'overtime è ancora Milos Cho con la tripla e i liberi che la chiudono definitivamente sarà stanche più leggibile di prima come dicono per esempio altre 16 palle perse il 25% da 3 e un altro K-Ose pur di misura al rimbalzo ma provate a fermarla voi questa Virtus e la grande impresa firmata dalla Fortitudo contro Milano ha mandato in archivio tante delle critiche che erano state mosse nei giorni scorsi all'indirizzo dei Bianco-Blu la squadra di Martino ha recitato la parte del Leone al cospetto di una delle formazioni più attrezzate di tutto il panorama continentale vediamo la Fortitudo rispetta in pieno le velleità annunciate dal presidente Cristian Pavane di inizio stagione diventare la mina vagante di questo campionato di Serie A il quinto squillo dell'Efe arriva contro Milano al termine di una gara praticamente perfetta condotta sin dal primo possesso nella quale Capitan Mancinelli e compagni toccano fino alle 22 lunghezze di vantaggio nel terzo quarto una gara che vale il secondo scalpo interno di lusso dopo la vittoria contro i campioni d'Italia in carica di Venezia serviva una svolta la stagione della Pompeo dopo che le due sconfitte consecutive maturate negli incroci con Brescia e Cremona avevano fatto suonare l'allarme mettendo a nudo qualche criticità di troppo e facendo gridare la necessità impellente e prepotente di tornare sul mercato i due punti colti contro l'impia tratti riconoscibile piegata con il ponteggio di 85-80 al paladozza danno una dimensione diversa ad una squadra stabilmente nella parte sinistra della classifica ma ora più convinta dei propri mezzi senza Stipcevic con le rotazioni in cabine di playmaking ridotte ed obbligate è un grande Matteo Fantinelli a prendere per mano la squadra conferendo grande qualità nella manovra e pressione difensiva costante su un Rodriguez impalpabile che costringe Ettore Messina a panchinarlo per buona parte del match il popolo fortitudino gode ora chiede ai suoi uomini di sfatare il tabù trasferta provando a vincere in casa di una acqua San Bernardo Cantù giovane ed indisciplinata reduce dalla pesante sconfitta di Pistoia alla quale coach Pancotto non è ancora riuscito a conferire una vera identità Un'Italia esagerata contro l'Armenia 9-1 il risultato a favore degli Azzurri ce ne parla Luciano Poggi con la sua opinione ed è arrivato anche il successo preventivato del resto contro l'Armenia della nazionale italiana che ha chiuso così un ciclo davvero straordinario beh adesso sono tutti lì a elogiare Mancini perché soprattutto perché l'Italia non dobbiamo dimenticarlo veniva dalla catastrofe di Ventura e poi a delogiare Mancini anche perché ha tirato fuori dal cilindro tanti giovani che non erano mai stati presi in considerazione addirittura alcuni anche nei loro rispettivi club e questo mi fa venire quasi in mente quando un altro grande commissario tecnico decise ad esempio di promuovere un giocatore che ancora era riserva nella Juventus in nazionale quel giocatore pensate si chiamava Cabrini beh questi ricordi fanno bene ovviamente anche perché ci danno la possibilità di pensare finalmente positivo ma poi dopo la gioia dell'ennesimo record dopo la gioia della vittoria di larga misura non era accaduto spesso alla nazionale italiana di realizzare tanti gol pur contro squadre definite così materasso dicevo dopo la gioia è arrivata la notizia la notizia che parla di una Italia che probabilmente si troverà nel proprio girone pur essendo teste di serie squadre come la Francia il Portogallo o qualcun'altra per via delle tante disquisizioni e situazioni logistiche che si verranno a trovare coloro che faranno poi il sorteggio vabbè intanto godiamoci questo successo e questa promozione è tutto allora per la nostra edizione di TR24 Sport grazie per la vostra cortesa attenzione arrivederci grazie per la vostra grazie per la vostra grazie per la vostra